Oggi abbiamo vissuto una giornata bella, una di quelle giornate positive che riaprono una relazione che è indispensabile, essenziale, soprattutto per dare risposta alle imprese agricole. C'è un grande bisogno di modernizzare, razionalizzare, dare risposte concrete, di semplificare la burocrazia in questo Paese, di semplificare la burocrazia della politica agricola comunitaria. Non può essere una risposta, affrontare sempre questi temi con queste carte, con questi documenti, perché in realtà l'obiettivo è altro, è quello di far crescere, quello di innovare, quello di rendere sostenibili le nostre aziende, quello di aiutarle ad affrontare delle sfide, quelle sfide che non solo i cambiamenti climatici, ma il contesto mondiale dei mercati ci stanno imponendo. C'è un bisogno estremo di creare coesione, collaborazione e confronto. Oggi abbiamo aperto una prima finestra. Certamente noi avevamo impugnato ed abbiamo impugnato atti precedentemente, ma quegli atti oggi, proprio per un atto di fiducia nei confronti di AGEA, noi li ritireremo. Ma sempre sapendo che nella relazione che noi costruiremo nel tavolo tecnico, ecco le risposte devono essere concrete. Non usciamo da quello che è il confronto, è una relazione attenta, seria e severa, ma altrettanto serena, disponibile ad affrontare insieme a loro appunto questa sfida. Una sfida alta, noi ci auguriamo che poi possa caratterizzare anche tutti gli altri interlocutori del mondo agricolo. Ce n'è un bisogno, ce n'è un bisogno estremo. Noi ci siamo, verificheremo se anche altri manifestano analoga disponibilità.